particolarmente irritato ma che dico furioso inconsolabile presidente del genova zangrillo si è lasciato andare a uno sfogo durissimo in parte direi anche esagerato non per gli episodi su cui poi andiamo anche a dibattere ci torniamo ma quando aleggiano il quel pensiero di complotto il pensiero di complotto il complottismo io a me sta roba da mi fa uscire di testa ma non non divaghiamo poi ritorniamo diciamo su come dicevo prima no su alcuni episodi perché soprattutto a da son grazie all'ausilio di ex giocatore devo dire è stato analizzato bene l'episodio no non abbiamo solo il parere arbitrale quindi la moviola magari di marelle abbiamo anche il parere di chi quelle dinamiche la le capisce ma in realtà la dinamica credo che se ci leviamo le bende dagli occhi la dinamica l'abbiamo un po capita tutti ecco ma con ordine con ordine prima prima di ogni cosa partiamo dal presidente appunto zangrillo che è andato prima sky e poi in seguito a da son credo eh io io vedevo la trasmissione da zon poi mi sono rivisto sky ho rivisto un po tutto sky meno male poi a da son ragazzi forse perché c'era anche marelli che ha discusso era veramente veramente inconsolabile come ho detto prima ma irritato furente e è arrivato dicendo sono qui per invocare rispetto per i 35.000 che erano presenti allo stadio si stanno rovinando si stanno rovinando il calcio no forse c'è un virgolettato male qui che sto leggendo tramite il post della gazzetta dello sport si sta rovinando il calcio o meglio stanno rovinando il calcio ma si sta rovinando il calcio si può anche dire volendo va bene andiamo avanti quando non c'è la ragionevole certezza non noi soccombiamo sempre a me hanno spiegato che quando non c'è certezza e sovrana la prima decisione dell'arbitro io minchino ma chissà come mai noi siamo sempre in questa situazione e qui a legge il complotto per quanto riguarda l'entrata di megnanne io da medico la definisco assassino ma fa niente il mondo del calcio è sempre più iniquo la fanno da padrona gli stessi vediamo quante giornate danno a megnano ecco perché dicevo che capisco dopo una partita del genere giocata veramente bene dal genoa secondo me il genoa una grandissima sorpresa perché io sì da neopromossa era quella che vedevo meglio devo dirlo assolutamente però neanche così bene onestamente perché il genoa secondo me si salva easy e se devo dire la mia dal punto di vista del campo si salva easy ma andando alle parole perché non mi piace sta storia del complotto no ma sempre gli stessi se io penso che facciamo un esempio stupido no sto con una persona però dalla mattina alla sera e ma secondo me questa mi tradisce ma mi tradisce ma non ci devi stare con quella persona non ci devi stare non ti fa bene diventa tossico se tu stai in un ambiente che secondo te è tossico e qui mi riferisco no qui dal presidente non ci devi stare ma ci devi stare io che commento il calcio che mi piace il calcio che parlo di calcio reputo che ci sia un disegno scuro no basta lasciamo stare il calcio e chi la pensa così è liberissimo innanzitutto di pensarla così non sono nessuno per fargli cambiare idea non sono veramente nessuno e ognuno può fare quello che gli pare ma non ci devi stare è semplice molto semplice no sempre questa storia no male no basta anche perché come spiegavano allo stesso sky no facciamo un esempio di berardi berardi andava espulso contro la juventus andava espulso e non mi sembra che il sassuolo abbia di più no come posso dire sia sia la juventus sia goli sia davide si davide ecco le vaffan bene lasciamo stare comunque volevo dire volevo dire che la juventus e la golia è praticamente il sassuolo davide o meglio la juventus è goli è veramente il sassuolo davide volevo dire semplicemente che in quel caso berardi berardi sarebbe stato espulso semplicemente no sarebbe stato subito espulso invece non è stato espulso non è non ha saltato neanche l'inter e quindi capirete voi che no di certo non c'è stato un vantaggio a favore della della squadra grande e delle squadre grandi però questo per chiudere il discorso nel senso che se veramente vediamo i complotti dobbiamo lasciare adesso andiamo invece agli episodi agli episodi per quanto riguarda l'entrata leviamoci l'entrata di magnan cioè analizziamola e leviamoci la depenniamo il tutto per quanto riguarda l'entrata di magnan l'ha definita assassina sicuramente è stato un intervento molto molto duro senza ombra di dubbio però sono andato a rivedere al var e hanno espulso magnan io credo che più di questo non si possa fare l'ergastolo mi dico che mi dicono che non sia non sia possibile come dicono poi magari cambieranno le regole e poi può essere che lui si riferisca al fatto magari che non subito prontamente l'arbitro ha visto dal campo l'espulsione doveva vederla subito può essere che si riferisca a questo e ci può stare perché in effetti spesso e volentieri vedo che ormai ci si affida un po alla macchina no io lascio andare io lascio andare e poi ci pensa il var o il guardaline anche anche su su sui fuorigioco a volte ci sono fuorigioco di tre metri davvero di tre metri no lasciamo continuare poi vediamo che lasci continuare se c'è un fuorigioco di tre metri quello lo devi vedere quello lo devi vedere altrimenti leviamo proprio gli arbitri e leviamoli proprio lasciamo guidare solo le macchine affidiamoci solo alle macchine e basta credo che su questo siamo un po un po d'accordo quindi se c'è un qualcosa di netto l'arbitro deve essere anche pronto secondo me altrimenti poi diventa un po ingestibile la situazione e poi andiamo all'episodio l'episodio madre il più discorso è quello che secondo me fa arrabbiare perché a volte poi è la spiegazione che dà fastidio marelli ha detto ma tutti quanti sia marelli sia sky e tutti quanti dicono giustamente anche la stessa cosa perché dal loro punto di vista dal loro punto di vista e dal punto di vista ufficiale è giusto e la spiegazione che non ci sono immagini non ci sono immagini chiare che ti dicono che al cento per cento magari al 99 per cento pulisic la tocca di di braccio davambraccio bicipite no no ma al cento per cento non c'è l'immagine c'è al 99 per cento al 99 per cento non basta ecco questa diciamo la definizione è la definizione tecnica e questo fa incazzare da morire questo fa incazzare da morire perché ad oggi 2023 dopo anni di var dare una motivazione del genere quando tutti sappiamo che poi alla fine era fallo perché dico tutti lo sappiamo perché l'immagine chiara che non è l'immagine ma è la sequenza di fotogrammi è proprio l'azione normale cioè vedete l'azione normale senza zoomate senza no lente di ingrandimento senza cagatine slow motion no vedete l'azione normale e vi accorgete che per per fermarsi in quel modo la palla per forza di cosa l'ha presa col bicipi per forza di cosa altrimenti se la prende di petto la la palla va via e lo provavano a spiegare molto bene anzi l'hanno spiegato molto bene berami e parolo che comunque sono dei calciatori e se non sbaglio marocchi a sky che era l'unico no in quella cerchia aver giocato a pallone praticamente dice le stesse cose parole diverse ma per dinamica sappiamo che quello era fallo ripeto non per immagini ma per dinamica molto semplicemente per dinamica però quindi si deve secondo me arrivare a un punto in cui anche se non conosciamo l'incognita y ma conosciamo x e soprattutto conosciamo il risultato noi ci dobbiamo arrivare faccio un esempio x uguale 3 non conosciamo y ma sappiamo che il risultato 8 anche se non abbiamo il dato di y sappiamo che è 5 perché 3 più 5 fa 8 e quindi ci devi arrivare secondo me in questo modo perché altrimenti poi ci sono polemiche ci sono discussioni però c'è anche da dire che guarda vi dico una roba fortunatamente fortunatamente è capitato proprio il milan che è stata la squadra che invece ha subito tra virgolette lo stesso torto la scorsa lo scorso anno e se non sbaglio due due stagioni fa perché era febbraio 2022 se non voglio andare se non voglio di cavolate sono andato un po rivedere l'episodio e ha subito lo stesso episodio l'ha subito in cui si è detto che si è detto che senza immagini non si è potuto annullare perché non c'era certezza anche in quel caso quindi è questo secondo me quello che fa arrabbiare più di tutto perché sappiamo che il tocco c'è però non possiamo da da protocollo giudicarlo un intervento falloso perché non c'è certezza è questo che fa storcere molto 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 il caso per come la vedo per come la vedo io ripeto mi è piaciuto molto l'analisi che hanno fatto soprattutto a Dazzon e per il resto ragazzi ci può stare non cadiamo in vari complottismi senza sombrido dubbio il genoa forse un pari l'avrebbe portato a casa anche con con merito per quello che ci ha fatto vedere però lo stesso milan se vogliamo andare a parlare della degli episodi non esce non esce bene da questa gara perché nella prossima se non sbaglio c'è la juve non avrà né megnà e non avrà né teo Hernandez è squalificato giustamente però in questo caso nel senso che mi è sembrato molto imprudente anche il gesto di teo che ha beccato un'ammunizione sai che sei diffidato va a fa un fallo tra l'altro sull'altra fascia è una roba che non mi spiego neanche questa superficialità da parte del giocatore poi l'espulsione del portiere quindi due essenze molto 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 importanti vediamo fatto sai che il milan è in testa alla classifica è una squadra che che battaglierà quest'anno perché io mi aspettavo delle difficoltà soprattutto inizio anno invece queste difficoltà se le scrollate subito di dosso per cui è una squadra che sicuramente temo molto 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 indubbiamente si ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate leccate se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio da nespio